Ciao a tutti, io resto a casa e ascolto musica. Gli uccellini, le rondini, almeno sul balcone ci posso stare, mortacci tu e coronavirus. Ciao gruppo, finalmente ci vediamo, guardateci. Oh, nel nostro splendore, si fa per dire. Non te temo coronavirus, mortacci tua. Ciao, ciao a tutti. Allora tutto bene, dai, forza. Con Pinuccio in sottofondo da Radio Capital, tanti libri, dico al coronavirus, mortacci tua. Io comunque resto a casa. Un bacio a tutti. Poi se qualcuno ha voglia e lo può fare, potrebbe donare sangue perché negli ospedali c'è emergenza sangue. Grazie, un bacio, resistiamo. Mortacci coronavirus, noi siamo a casa. Io resto a casa e ascolto musica. Mortacci tua coronavirus. Io resto a casa e ascolto musica. Eccoci qua. Pizza fatta in casa. Radio Capital. E mi raccomando, state a casa. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sono tornata da poco dal lavoro perché faccio parte, io lo dico, le categorie immuni da l'immortacci tua coronavirus a quanto pare. E niente, ho la fortuna di stare a casa domani, quindi sarò tranquilla per le mie quattro mura. E ascolterò un po' di musica, leggerò, sarò col mio bimbo. E niente, vi mando un abbraccio, un abbraccio virtuale e spero che tutto questo si risolva presto perché veramente c'è un clima tremendo in giro. Buongiorno. Adesso rido. Io sto a casa, ascolto musica e l'immortacci sua al virus. Ok. Mortacci tua coronavirus. Noi ce la faremo con la forza della musica, per cui stiamo a casa e ascoltiamo musica e ci pensiamo tutti quanti. Un abbraccio. Io resto a casa e ascolto musica, mortacci tua coronavirus. Come potete vedere i caraccioli non ci sono. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Io resto a casa e ascolto musica e faccio qualcosa di creativo che mi consenta di passare questo tempo, perché la libertà non si misura in distanze, la libertà si misura anche in sentimenti. Io resto a casa, ascolto musica e penso creativamente a tutti quelli che stanno lontano. Io ascolto musica e resto a casa e abbasso il coronavirus. Io resto a casa e ascolto musica. Mortacci tua coronavirus. Ciao a tutti. Suonare e cantare per voi è un po' come suonare e cantare con voi. Vi abbraccio. Ciao. Ciao. Ma dico io, mi date appuntamento a caserta e poi non vi fate vedere. Vabbè va, per questa volta siete perdonati. State a casa che è meglio, anzi stiamo a casa. Ciao. Io resto a casa e ascolto musica. Mortacci tua coronavirus. Voi non la vedete, ma c'è schizzi che mi sta mangiando. Morgendo un dito, mortacci la miseria, virus e schizzi. Ciao. Io sono a casa, ascolto musica, mortacci tua coronavirus. Io resto in casa e ascolto musica, mortacci tua coronavirus. Ciao ragazzi, io sono a casa e ascolto musica, mortacci tua coronavirus. Io resto in casa e ascolto musica, mortacci tua coronavirus. Eccomi qua. Sono a casa, ascolto musica, non sono da sola. Eccola lì, e l'immortacci tua coronavirus, non se po'. Però posso dirlo a modo mio? O almeno come si dice qui? Ecco qua. Ecco, a Verona si dice così. Un bacio ragazzi. Io resto a casa e ascolto musica, mortacci tua coronavirus. E' a casa, un bacio da Campranoia. Basta. La famiglia Basta. Li mortacci di sto coronavirus. Però è sottofondo musicale quello che è. Sottofondo musicale è sempre Radio Capital. Ok? Buona giornata a tutti. E li mortacci un'altra volta di sto coronavirus. Ehi. Grazie a tutti. Io resto a casa e ascolto bufia. Mortacci fa coronavirus. Ciao condomini, buongiorno. Io tra pulizie e la compagnia di Radio Capital, precisamente adesso sto ascoltando Betty, vi mando un saluto e vi dico che anch'io aderisco io sto a casa. Nemmeno una passaggiata in spiaggia, visto che ce l'ho proprio portata di mano, però va così ragazzi. Speriamo di uscirne il più presto possibile perché sinceramente detto in romagnolo è un sento in galera. Speriamo bene. Intanto vi abbraccio tutti quanti e un abbraccio forte. Ciao a tutti, sono Salvatore Toraldo. Questi sono due dei miei cinque gatti. Preferisco farvi vedere loro, ovviamente, non me. e volevo solo dirvi che io resto a casa e che ascolto musica, ovviamente Radio Capital, e che Mortacci tua coronavirus ti distruggeremo. Ciao da Lecce. Buongiorno a tutti. Io resto a casa e ascolto musica. Mortacci tua coronavirus. Di nuovo buongiorno a tutti, coraggio. Allora siamo qua, in questo momento che sembra irreale, è vero, è un quartiere tranquillo mio, però credo che non sia una cosa così negativa il fatto di riscoprirci a casa, riscoprire di nuovo un ritmo lento. Probabilmente non eravamo più dubbi a pensare. Speriamo, speriamo ci serva. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Io sono a casa e sono un'ascoltatrice di Radio Capital. Mortacci tua coronavirus. E alla fine di tutto, mortacci tua coronavirus. Noi siamo allegri perché la radio che ascoltiamo è la più bella del mondo. Radio Capital. Forza che ce la facciamo!